Nicolín Curvaia seconda finalista al GF VIP, Fiordelisi crolla, non ce la faccio più. Antonella Fiordelisi è rimasta delusa dall'esito del televoto del grande fratello VIP che si è chiuso con Nicolín Curvaia volata in finale, la concorrente è stata la più votata e si ha giudicata il titolo di seconda finalista. La decisione del pubblico ha mandato in tilt la Fiordelisi, non ho avuto altri litigi nella casa ultimamente. Lei ha sempre parlato alle spalle. Nicol non si è comportata bene con me, ma sono cose che mi tengo per me ha commentato. Una volta chiamata in confessionale da Alfonso Signorini non è riuscita a trattenere le lacrime. Devo essere sempre giudicata ha spiegato la VIP in confessionale che in studio ha discusso con Orietta Berti. Ha poi continuato, mi sento un po' sola. Tra le lacrime Antonella Fiordelisi ha raccontato di sentirsi sola e anche un po' fragile, non ce la faccio più. E' tosta stare qui. Non sono così forte come dite. Se litigo sono provocatoria. Se non litigo sono vittima. Qualsiasi cosa io faccio sono giudicata in negativo. Non so che fare. E' intervenuta Sonia Bruganelli che ha usato parole di conforto per la concorrente, sei stata sola dal primo giorno in quella casa. Tu sei entrata sola e uscirai sola, questo ti fa un enorme onore. Qualsiasi sia il tuo finale, te lo sei guadagnato da sola. Dopo aver visto un video montato dal grande fratello VIP che racconta la sua storia d'amore con Edoardo Donnamaria. Antonella Fiordelisi tra le lacrime di commozione ha svelato di sentire una profonda mancanza del fidanzato. Mi manca anche litigare con lui, ho capito che preferisco litigare con lui che parlare con altre persone qui. Mi manca svegliarmi con lui, portargli il caffè a letto, quando mi preparava qualcosa da mangiare. Immagino già casa nostra, tipo villetta, le parole in puntata. Antonella Fiordelisi è scoppiata in lacrime anche dopo aver scoperto di essere stata mandata al televoto. La catena ha lasciato lei e Nikita Pelizzona al ballottaggio finale e Milena Miconi. Chiamata a fare un nome tra le due, ha deciso di mandare al televoto la Fiordelisi. L'influencer campana è allora crollata, non ce la faccio più, sono stressata. Mi sono scocciata che mi dicono che sono falsa. Che strumentalizzo la mia storia? Tutte queste critiche, queste perdite, mi fanno stare male. Inchide ochi, poți imagina, că lumea e a ta, și-n plus, poți să sari sus, 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 sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut haba. Când e sus, când e sus, când e sus, când e sus, pot eu să sar. Acum, nu, nu, nu mai am nimic de-as, sun, poți să mă duc tot, ma suc.